Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento con Tutto Bene TV e ringraziamo per esserci tornato a trovare Giampaolo Usai, benvenuto, grazie per essere nuovamente nei nostri studi, lo ripresentiamo come qualche settimana fa, educatore alimentare con un diploma di nutrizione e cooking presso il College of Naturopathic Medicine di Padova e poi studiato anche presso l'Accademia Funzionale del Fitness Wellness Anti-Aging di Parma, questa è la presentazione, poi ne avevamo già parlato ma li riproponiamo anche alcuni testi, uno di questi è il seguente, Cibo Serio e poi anche Inganno Alimentare, li trovate, sono interessantissimi, abbiamo avuto tempo e modo di leggerli in queste settimane di approfondirli, li trovate anche sul sito ciboserio.it. Andiamo alle carni allora perché ultimamente la notazione che possiamo fare è che su alcune confezioni di alcuni prodotti proprio legati alla carne è comparsa una scritta, carne non separata, non contiene carne separata meccanicamente, il che ci apre tutta una domanda sulla carne separata meccanicamente. Allora per capire a volte cos'è che mangiamo, ora abbiamo modo di scoprirlo perché ce ne possiamo rendere conto anche attraverso queste parole. Sì, anche questa è una di quelle cose in etichetta di cui il consumatore è poco consapevole, ultimamente ci sono stati anche dei reportaggi televisivi che hanno comunque informato su questa particolare categoria di carni. Le carni cosiddette separate meccanicamente sono carni che si preparano attraverso gli scarti di macellazione in sostanza. Faccio un esempio, quando si prepara, quando si fa la macellazione per preparare il petto di pollo, le varie parti dell'animale che vengono scartate, che diciamo non vengono messe in vendita, come potrebbero essere le zampe per farci un'idea, vengono comunque riutilizzate per produrre altri preparati a base di carne, come possono essere i wurstel tipicamente, oppure degli hamburger, anche spinaccine, tutta una serie, cordon bleu, tutta una serie di prodotti che utilizzano molto spesso queste carni separate meccanicamente. Addirittura mi è capitato di trovare questo tipo di preparazione anche in alcuni prodotti di tortellini confezionati nel ripieno dei tortellini. Questo in genere, perdona, è indicato comunque, contiene... È assolutamente indicato, è scritto sull'etichetta, sì. Tutto sull'etichetta del suo bianco. Assolutamente sì, chiaramente si tratta di una parte della carne meno pregiata, meno diciamo di qualità, perché comunque nella carne separata meccanicamente vanno a finire anche le cartilagine, diciamo dell'animale, tutta una serie di ossicini che vengono finemente tritati, quindi poi dopo non si sentono. Tra l'altro vengono additivate queste carni con notevoli quantitativi di aromi e di sostanze esaltatori di sapidità, addirittura gli aromi di affumicatura esistono, cioè piuttosto che fare un'affumicatura, che è un processo comunque produttivo costoso, che richiede tempo, giustamente. Esistono addirittura gli aromi di affumicatura, che vengono spesso aggiunti ad esempio nei viulstelo, in questi tipi di prodotti. E quindi dire che non esiste più in quel determinato prodotto carne meccanicamente separata equivale a dire che il prodotto ha una qualità maggiore. Esatto, ultimamente alcune aziende hanno iniziato a scriverlo come vero e proprio claim, come dicevamo la scorsa volta, nutrizionale.